Italia del Rispetto ha proposto al Comune di Voghera di prendere in considerazione un'iniziativa che si chiama Adotta un animale domestico. Di che cosa si tratta? Sì, buongiorno. L'iniziativa ha due aspetti, uno economico e uno sociale. Da un punto di vista economico si vuole ridurre i costi comunali che vengono elargiti ai canili. Quindi si ritiene di dare un bonus al cittadino che adotta l'animale domestico, gatto, cane, che sia. Ovviamente questo bonus non verrà dato in soldi, ma viene detratto dalle tasse comunali. Ecco, ci sono stati altri comuni che hanno sperimentato questo tipo di iniziativa in passato oppure no? Mediamente si è visto che i comuni in Italia che hanno aderito all'iniziativa hanno dato un bonus da 100 euro in su. Invece mi diceva che c'è anche un aspetto importante sotto il punto di vista sociale. Sicuramente. Allora, la seconda parte è quella sociale. Vuole dare una famiglia agli animali e per evitare speculazioni ci saranno dei controlli per evitare adotto cane e poi l'abbandono. Esatto, perché qualcuno ha fatto notare che potrebbe esserci un'adozione apposta. Apposta per ritirare il bonus e poi l'abbandonano ancora nelle città. Esatto, invece voi dite attraverso dei controlli approfonditi si può tenere sotto controllo questo genere di cose. Certamente, è un controllo a sorpresa per vedere che i cani vengono gestiti in modo educato.